buonasera a tutti cari youtuber sono io la vostra reddola verigenna e vi do finalmente benvenute in questo mio nuovo gameplay della versione golden retriever nuovi amici siamo al secondo episodio di questa versione in questo secondo episodio vi volevo mostrare il mio nuovo cucciolo e le novità di kichiro il mio adorabile scivaino allora come potete vedere kichiro oggi oggi siamo al 10 il di dopo non ho detto giorgi si intanto è stato svelato ma ora vi spiego tutti tutto vi spiego tutto comunque ha vinto la nintendo x di tutte è diventato un cane dorato cavolino riuscita a fare la foto se metto con gli stili di male ma vero tengo così è un cane dorato come potete vedere andiamo sotto ok kichiro ha fatto tutti i punti della giornata 1600 comandi mi sa tutti 17 fino a 1 la migare tutte ma ce l'ho fatta sì ma è molto bravo infatti fin dall'inizio si capiva che era un grande cane perché appunto se si pensa che il secondo giorno mi aveva già vinto la maestri del disco e comunque anche l'inseguimento non è che andasse male cose che per me è raro perché io tipo l'inseguimento e anche la disco ci metto in genere quasi due settimane a vincerle se non di più quindi wow e comunque il mio secondo cucciolo è lei giorgi vi spiego allora giorgi non è stato diciamo il mio secondo cucciolo vero e proprio che prima direi intanto come dette vedere si deve andare a 600 punti quindi si è fatto il conto 1600 più altri 600 fa neanche 2000 e se andiamo nel diario un attimo per farvi capire che non scherzo e che non è una bugia prima ecco mettiamo così prima direi come vedete sono a 2000 e passe o 200 punti in più perché prima direi appunto avevo un altro cane perché io ho provato a prendere un altro cane perché non volevo prendere anch'io subito un jack russell come sarah chiambeca ovvero sarah chiam lion wolf volevo un altro cane per differenti anni per far vedere che comunque io non è che lo faccio apposta cioè ci mancherebbe io non la copio cioè che ci posso fare se prima che li prende lei non li cago e dopo vedo i suoi e incomincio a galli cani che poi non è vero che li cago tutti perché lei mi ricordo ho avuto anche dei bull terrier robe che io mai prenderò un bull terrier perché appunto è una razza che non mi piace no oppure un'altra razza che sarà avuto il bassotto che io non l'ho appunto vedete mai preso perché i bassotti non è che mi piacciono tanto e anche lavo lei ha avuto un labrador io sono lì lì con il labrador quindi come vedete io non è che prendo proprio le stesse razze di sarah solo che il jack russell mi ispirava poi avevo appunto preso un dalmata che anche io non li cago tanto il dalmata perché volevo una razza diversa e niente non mi vinceva neanche la principianti all'inseguimento era lentissimo lentissimo perché era lenta l'avevo chiamata nana era lenta anche al disco nada c'è un po l'obbedienza ok ma io non ho mai problemi con l'obbedienza però le altre gare veramente da fuori fuori di testa e quindi il giorno dopo l'ho donata e mi sono presa questo cucciolo qualche come vedete comunque diverso perché anche il colore è diverso cioè almeno guardato quello di sarah non è uguale che poi il suo musetto nero il mio invece no e poi anche il colore insieme al diverso quindi apprezzatelo apprezzate che ho provato a prendere come secondo cane un'altra razza però mi sono trovata male che ero indecisa tra dalmata e vabbè jack russell gli altri cani lo guardate non mi ispiravano cioè volevo perché poi io riprendo subito come prova perché dopo se mi trovo bene bene ritengo se no no cioè io i cani prendo sempre come prova ho detto proviamo sembra bravo quello di sarah vediamo se realmente sono bravi jack russell e devo dire che io ho avuto un maschio il maschio era testardo era per quello che dopo non li ho più presi jack russell però ho provato femmina e questa qui è brava perché comunque la descrizione mi piace un casino e che guardate un attimo la descrizione una femminuccia della spiccata intelligenza e curiosa come non mai una descrizione bellissima appunto è sottopeso va bene comunque legare guardate qua 24 siamo al terzo giorno e già mi ha vinto la maestri del disco va qua e qua la pro e qua forse mi vincerà anche la pro del dell'inseguimento dopo l'alleno e di sicuro vincere che è veloce è veloce comunque nel suo momento non tanto quanto chi ciro infatti vorrei ci metterò più di chi ciro vincere però comunque è un buon risultato perché io in genere anche la direttanti faccio molta fatica a vincere anche comunque per essere il terzo giorno mi ha già vinto la maestri del disco non per dire buono molto buono ora già che siamo qui faccio vedere gli oggetti sono un po aumentati vedete ho anche lo snack di pollo vabbè uno shampoo premium mi sono anche come vedete passata un po di cose della barboncino questo me l'ha trovato questo anche se mi sembra di sì questo me lo sono passato dopo mi manca l'altro boomerang questo meno su un passato passato comprato va bene guardate già sei salva dai le musiche per ora ce le ho tutte 11 gomma e anche quando sono messa male cuoio 9 questo me lo sono passato poi che altro mi sono passata vediamo questo sì il collare zebrato molto bello che le lo volevo mettere a giorgi ma volevo aspettare di trovare il fiore di disco bianco che non me l'ha ancora trovato la rosa trovata trovato la tuba trovata e basta dopo non ho e questi me li sono passati sempre dal barboncino mi sto passando tutto dalla barboncino quello che ho nella barboncino di esclusivo me lo sto passando nella golden con giorgi mi manca appunto solo l'inseguimento fuori casa 11.876 euro e 3.812 contapassi ora direi di fare una passeggiata con la nuova arrivata visto che collegare comunque prima la devo allenare una piccola passeggiata visto che sono già otto minuti e dopo di che basta vediamo cosa mi trovo vediamo se mi trova il girasole che anche quello sarebbe bello il girasole si andiamo voglia di andare in montagna come vedete si appunto io me lo sono passato è che nella barboncino è da un pochio questo qui questo è johnny e ce l'ho da un pezzo raga cioè ce l'avrò nella barboncino da due settimane quindi come vedete non è che non lo prendo mai e se che l'avevo provato a prendere che stavo cercando di prendere altre relazioni la barboncino ma ho intenzione di iniziarlo ma davvero come sto facendo con questa e questa versione mi sa che non la ricomincerò facilmente perché con questi cani mi sto trovando davvero molto bene molto molto bene ho intenzione di prendere razze possibilmente che non ho nella barboncino quindi il posto tedesco è una razza che mi piace molto però non credo di prenderlo perché boccia una barboncina e poi dov'è che ce l'avevo nella bulldog può essere mi ricordo ma io ho avuto due pastori tedeschi finora che appunto è molto bello come l'altro che appunto mi ricorda un po il lupo e anche nella realtà quando vedo il pastore tedeschi in giro ogni volta impazzisco infatti come altro cane mi piacerebbe il pastore tedesco però a mia mamma fanno paura i pastori tedeschi perché pensa che siano tutti aggressivi c'è è un cane meno buono rispetto ad altri perché un carattere forte il pastore tedesco però secondo me anche i portori tedeschi possono essere buone poi le femmine sono sempre secondo me più docili dei maschi perché le femmine lo sanno tutte noi siamo sempre di più dolci cioè quasi sempre che comunque volate lì strada segreta quindi si durerà siamo già 11 minuti bene comunque finora solo giorgi mi ha trovato le strade segrete chi ciro no mai vabbè comunque spero davvero che non ci siano rancori e che nonostante io abbia preso la stessa razza di sarà comunque abbiate capito che io ho provato a prendere un'altra razza e le prove ci sono perché io dovrei avere meno di 2400 dovrei avere 2200 punti invece oggi rosa rossa e siamo la terza e appunto avete visto il diario il diario parla chiaro cioè io oggi non dovrei arrivare a 2400 ma 2200 cioè dovrei avere 200 punti in meno cioè sì mi sembra sì ho 200 punti 200 punti in più insomma diciamo dai vai il video se non si prolunga troppo comunque li sta benissimo il fior di visco rosso col collare di perline no infatti volevo fin da subito come secondo cane prendere una fina per mettergli le perline cioè quanto bello è quel collare lì io lo adoro con le fragole così stupendo giro collo di cuoio comunque tutte cose che ho già se mi trovassi un girasole non sarebbe male girasole girasole vieni o ma gira sole sì davvero spero nessun rancore raga perché io comunque ripeto non lo faccio apposta e non so neanche spiegare il perché quando vedo i cani di sarà dopo incomincio a cagarmi perché veramente ho fatto di tutto pur di non prenderlo però o è bravo cioè un'altra rosa rossa che pizza veramente scusatemi ma i prossimi giuro che cercherò di non prendere uguali che veramente se no è troppo brutto c'è un gioco con le proprio stesse identiche razze poi lo sapete lo sciva io lo adoro come razza bastone di legno e come vedete prendo sempre lo scivo come prima razza che appunto la adoro infatti anche la baroncina ho riniziato con lo scivo perché le altre razze non è che mi cominciano tanto c'è avevo ricominciato con un laureato ora appunto ma niente da fare il film non c'era infatti appena avevo i soldi per lo scivolo donato neanche ti posso fare lo scivano vorrei avere anche nella realtà io perché piccolino perché in famiglia mia dovete sapere non sono messi cani grandi cioè la kira secondo me è anche troppo grande no troppo grande no ma cani più grandi non li vogliono infatti loro come nuovo cane appena non ci sarà più la kira si vorrebbero prendere mia mamma mi piace tanto il barboncino toy cioè è carino per carità però ma i cani troppi piccoli non è che piacciono lo sciva è perfetto e la dimensione giusta secondo me comunque sì siamo tornati a casa io direi che posso concludere quel video spero davvero che il mio cucciolo vi piaccia dai e che non siate arrabbiati con me e spero che non ci siano troppi dislike sotto questo video spero mi raccomando lasciate un bel like e un commento serve molto gradito se non siete ancora iscritti iscrivetevi mi raccomando se volete aggiungermi nel vostro ds scrivete nel vostro codice amico i miei li trovate insieme ai social in descrizione mi raccomando iscrivetevi numerosi al mio canale e attivate la campanella così ogni mio nuovo video vi arriverà la notifica detto ciò io vi mando un grosso bacione e video appuntamento come sempre a un mio prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti